questo lunedì 10 agosto si è spento don filippo stefani presso la domus salutis di brescia le comunità delle quali si è preso cura don filippo lo piangono con sincero affetto uomo forte e rude dotato di grande umanità e bontà disponibile allegro burbero ironico quanto basta ma sempre accogliente era un prete molto amato da chi ha avuto la fortuna di incontrarlo don filippo nato nel 1957 è stato ordinato sacerdote nel 1982 nel corso del suo ministero è stato curato a botticino mattina quindi parroquo in cudine vice parroquo a vezzadoglio dal 1986 al 95 successivamente parroquo a cevo fino al 2018 dal 2018 anche ricoperto l'incarico di amministratore parrocchiale a saviore dal 2019 era vice parroquo a calvisano malpaga mezzane e viadana particolarmente intenso il periodo trascorso a cevo dove don filippo fu testimone di molte attività religiose legate alla croce del papa eretta il 5 novembre 2005 sul dosso dell'androla sostende tutte le iniziative parrocchiali legate al monumento in onore di papa giovanni paolo secondo come parroquo dicevo era anche membro del consiglio di amministrazione dell'associazione croce del papa il tristissimo episodio della morte del giovane l'overese schiacciato dalla croce crollata il 24 aprile 2014 e gli strascichi giudiziari successivi ne avevano fortemente scorso al carattere conclusa questa parentesi giudiziaria don filippo chiese e ottenne di essere trasferito ad altro incarico parrocchiale dalle sue amate montagne venne trasferito alla pianura bresciana ma già i segni del male contro il quale combatteva in silenzio si stavano palesando fino alla conclusione di queste ore di lui resterà il ricordo di un uomo forte allegro positivo volitivo sempre pronto a portare il suo ministero tra la gente anche quando doveva curare otto comunità contemporaneamente la camera ardente è stata allestita presso la chiesa parrocchiale di calvisano la veglia funebre con la santa messa presieduta da monsignor gaetano fontana è stata fissata questo martedì alle 20 e 30 a calvisano dove si svolgerà anche il funerale presieduto dal vescovo pierantonio tremolada mercoledì 12 alle 15 e 30 giovedì 13 la salma giungerà al cimiterio dicevo dove verrà celebrato il funerale alla presenza delle sue amatissime comunità della montagna quindi alle 18 verrà sepolto nel cimitero di losine le amministrazioni comunali e di tanti fedeli che lo hanno conosciuto in queste ore lo piangono come un amico caro un pastore molto fedele amato sincero e ricco di umanità